Eccoci al consueto appuntamento con il Tg sul canale 85 di Tris, in apertura alla vertenza del polo petrolchimico di Siracusa e la grande mobilitazione del sindacato. Entro la prima degati di novembre ci sarà appunto questa forma di protesta, di manifestazione, di mobilitazione del sindacato unitario che per l'occasione a difesa della zona industriale siracusana si è riunito ieri sera. Vediamo il servizio d'apertura. Ci sarà una mobilitazione generale per sostenere la zona industriale siracusana che rischia il default e addirittura di chiudere i battenti. Sarà fatta entro la prima degate di novembre proprio per venire incontro alle esigenze e alle scadenze che sono davvero imminenti. Riteniamo che al punto in cui siamo non c'è altro che agire con una mobilitazione che possa essere quanto più unitaria possibile non solo all'interno del mondo sindacale ma con tutta la comunità economica, istituzionale e politica di questo territorio. Noi siamo davvero molto preoccupati. Le interlocuzioni che fino a questo momento ci sono state non hanno dato il risultato sperato. Pensiamo che sia assolutamente necessario mandare un messaggio forte e chiaro al Governo regionale e nazionale che questa è una provincia che intende difendere soprattutto il futuro di un polo industriale che ha tutti gli strumenti per agganciare anche la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale e occupazionale e anche l'economia industriale. Una zona industriale che non sarà l'Ilva di Taranto però ha bisogno dell'attenzione del Governo, il nuovo Governo. Attenzione massima sia da parte nostra ed è proprio quello che vogliamo comunicare attraverso questa mobilitazione. L'attenzione da parte nostra e nei confronti dei livelli occupazionali, del livello di sicurezza ambientale e verso il futuro di quello che è il polo industriale e che per noi è la maggiore parte economica che fa da traino a tutti gli altri settori e che una sua eventuale implosione produrrebbe un effetto domino su tutti gli altri settori e su tutta l'economia del territorio. Noi questo non lo possiamo permettere. Una mobilitazione che si concretizzerà come? Ma guardi, noi coinvolgeremo tutto il mondo civile, sicuramente è un impegno grande che parte dalle organizzazioni sindacali unitarie ma che comunque coinvolge l'intero territorio siracunzano con tutto quello che è il mondo che circonda, quindi pensiamo anche alle istituzioni, pensiamo ai sindaci, pensiamo molto probabilmente anche a qualche associazione datoriale. È un problema che riguarda tutti, nessuno escluso. Indubbiamente il polo industriale è un pilastro importante della nostra economia e un crollo di quel polo significherebbe comunque fare entrare in crisi tutta l'economia circolare di questa provincia. Quindi nessuno escluso, ognuno di noi si sente toccato e quindi abbiamo bisogno di armarci e partire tutti insieme. Cambiamo argomento, uno strumento nuovo per garantire un alloggio alle famiglie che ne hanno bisogno e questo è il senso del progetto denominato Habitat di cui il comune di Siracusa è capofila. Si chiama Habitat il progetto con cui il comune di Siracusa intende dare nuova linfa agli alloggi popolari. Risolvere il problema della casa diventa oggi ancora più possibile con una collaborazione tra gli ACP ma anche Banca Etica e alcune associazioni che operano nel terzo settore. Un'opera importante che cerca di creare un impatto sul territorio attraverso la collaborazione non solo con tutti i firmatari di questo progetto, i partner di questo progetto che vede il comune di Siracusa come capofila ma soprattutto per entrare nel merito di un disagio che è un disagio diffuso, quello abitativo a cui il comune di Siracusa comunque prova a dare risposte anche attraverso il progetto Housing First. Noi paghiamo, lo voglio ribadire, ricordare a tutti un anno di affitto alle famiglie che hanno bisogno, quello che succede, l'ho raccontato tante volte che spesso e volentieri non si trovano le case perché i proprietari di case non vogliono affittare. Il progetto Habitat avrà un finanziamento? Che cosa è previsto? Sì, il progetto Habitat è finanziato dal Fondo Innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede un finanziamento di 450 mila euro, si svolgeranno determinate azioni di sperimentazione, vale a dire proveremo a sperimentare il co-housing, ristruttureremo, proveremo a stare insieme quella famosa fascia grigia che sono quei cittadini che non sono ancora ai margini, che non sono nelle condizioni di essere inserite nella graduatoria per l'assegnazione delle case popolari ma di contro non hanno la capacità né di acquistare una casa né di affittarla. Quindi è rivolto a chi? Ad anziani, a donne sole con bambini, a neomaggiorenni che fuoriescono da un trattamento sociale e fondamentalmente a questi ci rivolgiamo. Ripeto, lo stiamo sperimentando, sperimenteremo come si fa a stare insieme sul territorio con tutta la rete che si è unita a noi in questo patto sociale e vediamo un po', speriamo che diventi un best practice. Si parte dalla Graziella? Allora, si parte dalla Graziella, vedremo, ancora non abbiamo deciso dove faremo l'agenzia perché la sperimentazione prevede proprio la realizzazione dell'agenzia sociale della Casa Popolare, è prevista originariamente alla Graziella ma alla Graziella sicuramente sarà sperimentato il co-housing in due appartamenti delle ACP messi a disposizione. Ancora protesta dei lavoratori, i lavoratori dei servizi informatici del comune di Siracusa da 20 giorni si ritrovano senza lavoro. E' andata in scena questa mattina la protesta dei lavoratori dei servizi informatici del comune di Siracusa. L'amministrazione dica qual è il futuro del servizio, soprattutto dei 15 addetti ormai a spasso questo è l'assenso dell'intervento delle organizzazioni sindacali. Stamattina la protesta davanti all'urban center. Dal primo di ottobre siamo fermi e siamo all'interno del comune da 39 anni perché quest'anno noi abbiamo festeggiato i 39 anni di servizio, sempre con delle società private logicamente, però lavorando all'interno del comune con i servizi informatici. Noi l'abbiamo meccanizzato e lo abbiamo portato avanti. Come stanno facendo adesso il comune senza il vostro apporto? Tante cose sono ferme, tantissime cose sono ferme e aspettano che rientriamo. Per altre cose si stanno appoggiando alla società Data Group che è quella che ci fornisce il software. E' una situazione un po' che ci angoscia quindi ci ha tenuto così ingiustamente a casa però è chiaro che noi siamo fiduciosi nei confronti del sindaco perché ci sembra che ci abbia detto che è una situazione che si dovrebbe sbloccare. Per ogni due anni a causa di campi appalti e di dinamiche di appalti che a volte non voglio creare polemiche ci risultano incomprensibili, ogni volta ritornano a essere nuovamente disoccupati. In questo momento stiamo parlando di una ventina di padri e madri di famiglia monoreddito che sono disoccupati. L'azienda in cui lavoravano tra le tantissime aziende di queste appalti era la Data Management. Adesso la Data Management ha riscetto il contratto per conto del comune e nuovamente si stanno aspettando una gara. Abbiamo parlato poco fa con il signor sindaco, con il dottor Italia che ci ha dato della rassicurazione però la clesside scorre. A quanto tempo sono fermi? Questi ormai sono fermi da circa 20 giorni, sono fermi per cui è importante con quello che abbiamo in questo momento discusso con il dottor Italia che a breve dovrebbe crearsi la gara Consip al fine di stabilizzare i lavoratori almeno per quattro anni ancora. Cambio di consegne al comando dei vigili urbani di Siracusa, più vigili a piedi e maggiori controlli ambientali sono questi due capisaldi dettati appunto dal nuovo comandante, si tratta di una donna della Polizia Municipale di Siracusa. 30 anni di esperienza nei vari settori della pubblica amministrazione e una visione strategica allargata alle questioni con il coordinamento attivo soprattutto in urbanistica, nell'ambiente e nei servizi scolastici. Così si presenta il nuovo comandante della Polizia Municipale di Siracusa. È un problema sul personale subito evidente perché abbiamo, come dicevamo poc'anzi, il fatto dell'età molto alta del personale, pochissime nuove risorse che possono aggiungersi e fare anche un cammino esperienziale di affiancamento alle persone più adulte con esperienza e poi il fatto che c'è tantissimi servizi affidati al Corpo Immunità Municipale che non ci spettano, quindi si straggono risorse e così via. E poi c'è la volontà di dare coraggio, di dare fiducia al comando, alle persone che ci operano perché sono persone un po' sfiduciate e quindi bisogna dare di fiducia che gli siamo accanto come amministrazione, come comandante e creare un rapporto di collaborazione stando con loro, stando con loro, condividendo le loro problematiche quotidianamente. Quale sarà al fianco dei vigili in strada? Io sono già, io sono venuta più volte fuori, ogni volta che c'è un intervento importante io esco sul territorio, esco e sono dall'alba alla mattina alle 6 fino alla sera tardissimo, sono tutti i giorni al comando. Hai ribadito il problema dell'organico, come risolverlo? Il tema dell'organico è un tema che riguarda ovviamente tutte le amministrazioni, la nostra è una di quelle che ha fatto i concorsi, la presenza della nuova dirigente e non solo di lei, abbiamo anche due nuovi dirigenti tecnici, è uno degli strumenti che stiamo attuando, a novembre arriveranno anche dei nuovi funzionari, completeremo ulteriormente l'organico, la giunta è molto presente sull'argomento perché chiaramente maggiori e migliori nuove forze riusciamo a portare all'interno dell'amministrazione comunale, più fluido ed efficace sarà il lavoro. Siamo alla cronaca, andiamo a Catania, andava in giro con un revolver, i carabinieri hanno trovato nascosti in un locale armi, munizioni e droga, è stato arrestato un 35enne di Catania. Quando i carabinieri hanno aperto la porta in ferro si sono trovati davanti un vero e proprio arsenale di armi, munizioni, giubbotti, antiproiettili e droga. L'operazione dei militari si è svolta a Catania, in via Moncada, quando due individui, alla vista dei carabinieri sul posto, hanno immediatamente tentato di dileguarsi, ma i militari li hanno seguiti, bloccati e dato seguito ad una perquisizione, rinvenendo nella cinta dei pantaloni di un uomo di 35 anni una revolver Franchi con caricatore inserito, contenente ancora nove colpi calibro 38 special, con matricola non censita, da lì è scattato il controllo della zona fra le palazzine. I carabinieri arrivati davanti una porta in ferro arrugginita, ma con un lucchetto nuovo, hanno così verificato che si trattasse di un locale destinato alla raccolta dei terminali della rete fognaria di due scale di una stessa palazzina. Hanno rinvenuto nel locale cinque fucili da caccia, di cui tre a canne mozza artigianalmente modificati, ancora una pistola mitragliatrice di provenienza cecoslovacca, una pistola Mood Glock modificata, 352 munizioni di vario calibro, circa sei chili di ascici suddivisa in panetti, un giubbotto antiproiettili e un lampeggiante blu per auto, vari kit per la pulizia delle armi e svariato materiale per il travisamento, tra cui uno scaldacollo e guanti in pile. Tutto il materiale illecito trovato in vari borsoni e buste è stato sequestrato per poi essere sottoposto ad esami di laboratorio al fine di risalire a chi ne avesse avuto la disponibilità e se l'armamento sia già stato utilizzato in episodi delittuosi. Il 35enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto alla misura della custodia cautelare presso il carcere catanese di Piazza Lanza. La cronaca giudiziaria adesso, ma ci spostiamo a Siracusa per avviso di conclusione, indagini preliminari per tre uomini accusati rispettivamente, due per omicidio colposo, lesioni colpose e cooperazione del delitto colposo e un terzo per violazione della normativa in materia di prevenzione incendi. Vediamo. Concluse le indagini preliminari della Procura riguardo l'esplosione di una bombola di gas in una dependanza di un'azienda a Siracusa nella zona di Santa Teresa a Longarini, dove persero la vita a due fidanzati e rimasero ustionate altre tre persone. Avviso di conclusione indagini per due persone, un uomo di 46 anni e 44 anni accusati di omicidio colposo e nei confronti anche di un uomo di 57 anni per violazione della normativa in materia di prevenzione incendi. Nello specifico, il 30 settembre del 2021, a causa della fuga di gas in una piccola abitazione adibita a depandanze per indipendenti di un'azienda agricola, la deflagrazione causò la morte dei due fidanzati di origine filippina, lei trentenne e lui 33 anni, e ustioni gravi per le altre tre persone. Secondo quanto emerso nel corso delle indagini preliminari, l'esplosione sarebbe da imputare alla condotta negligente e imprudente degli indagati, i quali, nell'installazione del dispositivo che avrebbe dovuto fornire di gas l'unità abitativa, avrebbero omesso sia di applicare un riduttore di pressione di secondo livello, necessario ai fini della regolazione della pressione in entrata, sia il successivo collaudo di sicurezza dell'impianto. Questo avrebbe causato il formarsi all'interno del vano cucina dell'atmosfera infiammabile, che è poi esplosa a causa dell'innesco derivante dall'attivazione di un interruttore di energia elettrica. Inoltre, dal quadro investigativo è emersa la violazione della normativa in materia di prevenzione incendi da parte del rappresentante legale dell'azienda agricola. L'uomo di 57 anni, anche egli, è stato destinatario del provvedimento di avviso conclusione indagini. Ci fermiamo in linea alla regia per i consigli, poi torniamo per la seconda parte del telegiornale con altre notizie, con i numeri del Covid, con lo sport. A tra poco. Qualità, professionalità e tecnologia sono le caratteristiche che contraddistinguono Physiorem Medical Center, una struttura polidiagnostica con più di dieci anni di esperienza, specializzata in diagnostica radiologica e riabilitazione fisica, che si serve di attrezzature e strumentazioni all'avanguardia. Il sistema di risonanza magnetica OpenMark 5000 rappresenta la nuova generazione di risonanza magnetica a medio campo. Questo sistema combina le elevate prestazioni dell'alto campo con il vantaggio di un'architettura aperta. Questo permette di ridurre sensibilmente la sensazione di ansia del paziente. Dotarci di questo macchinario ci permette di ampliare la domanda di esami diagnostici per quanto riguarda l'osso articolare. Adesso riusciamo a dare anche un'offerta per quanto riguarda la parte neuro. Physiorem Medical Center. La trovi a Siracusa. Dissalatori e depuratori d'acqua. Da 40 anni per la nautica, per l'industria, per la casa. Selmar is the way. Lo sapete mamma e papà? Con la detrazione fiscale il depuratore d'acqua costa la metà. Rieccoci studio per la seconda parte di Trisse telegiornale che riprendiamo con altre notizie di cronaca con il tragico incidente stradale che ha visto coinvolti, anzi travolti, sull'ex stata statale 114 nei pressi di Lentini, quindi sulla Siracusa-Catania due ciclisti. Uno purtroppo ha perso la vita e l'altro si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni. È di un morto e un ferito il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla ex stradale 114 Catania-Siracusa, all'altezza del ristorante Torero. A rimetterci la vita è stato l'ingegnere lentinese Alfredo Floridia, di 57 anni, mentre l'altra persona con cui era in compagnia è stato trasportato al Cannezzaro di Catania. La dinamica dell'incidente stradale è ancora al vaglio della Polizia Municipale di Catania. I due lentinesi, secondo la prima ricostruzione fatta sul luogo, con le loro bici da corsa si sarebbero fermati sul bordo stradale, forse a causa della foratura di una ruota della bici e per cause ancora in via di accertamento venivano travolti da un automobilista che dopo l'impatto si è dato alla fuga. Sul luogo sono prontamente intervenuti la Polizia Municipale di Catania e il personale sanitario del 118. Per l'ingegnere Floridia purtroppo non c'era più nulla da fare, mentre l'altro ciclista è stato trasportato al Cannezzaro di Catania per le cure del caso. La scomparsa dell'ingegnere Floridia ha destato grande commozioni a Lentini, anche in considerazione del fatto che era una persona nota in città e sempre cordiale con tutti. Rimaniamo a Lentini dove il GIP ha derubricato il reato di tentato omicidio che è stato contestato ai due fratelli che spararono ad un uomo. Ce ne parla il nostro corrispondente Nello la Fata. È stato derubricato in lesioni personali il reato contestato a due fratelli lentinesi che sono stati arrestati il 14 maggio per avere sparato e ferito un loro concittadino. Il GIP del Tribunale di Siracusa, Andrea Mignieco, ha disposto la scarcerazione per Emanuele e Cristian Scrofani rispettivamente di 27 e 22 anni che avevano già ottenuto gli arresti domiciliari. Soltanto a Cristian è stata applicata la misura personale dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, avendo già confessato di avere premuto il grilletto della pistola contro il malcapitato. La richiesta di scarcerazione è stata proposta dai legali difensori dei due indagati, Avvocati Puccio Forestiere e Fabiola Fuccio, anche alla luce dell'accordo trovato con la parte offesa per il risarcimento dei danni. La vittima dell'agguato era stata presa di striscio alla schiena e a una mano da uno dei quattro colpi di pistola calibro 7,65 sparati da Scrofani. È stato chiarito che Scrofani avesse mirato per terra ma un proiettile di rimbalzo ha ferito l'uomo. I due fratelli sono stati arrestati due giorni dopo l'agguato per tentato omicidio, a seguito delle indagini portate a termine dai poliziotti della squadra mobile della questura di Siracusa e da quelli del commissariato di Lentini. Gli investigatori, coordinati dal pubblico ministero Tommaso Pagano, avevano ricostruito la dinamica dell'episodio avvenuto nel quartiere sopra Fiera. Fra i due fratelli e il ferito vi erano stati dei dissapori mai sopiti per futili motivi nei confronti del loro genitore e quel giorno armati di pistola. I due indagati hanno voluto dare una lezione al loro avversario. Gli hanno dato così appuntamento di sabato e al culmine del litigio sono stati sparati colpi di arma da fuoco. I legali difensori stanno verificando la possibilità di chiudere la partita con la giustizia chiedendo l'ammissione a uno dei ridi alternativi. Lasciamo la cronaca e parliamo di dissesto idrogeologico a Buccheri, al comune montano, in gara il consigliamento della strada di accesso al paese. Per il contrasto del dissesto idrogeologico in gara l'intervento di messa in sicurezza della strada d'ingresso al centro urbano, l'ex statale 124 a Buccheri, nel Siracusano. Gli uffici di Piazza e Ignazio Florio, diretti da Maurizio Croce, hanno pubblicato il bando per un importo di poco superiore ai 550 mila euro. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al prossimo 16 novembre. Volge così al termine, dopo otto anni di attesa, una vicenda che risale alla primavera del 2014, quando sul versante che collega la zona di Contrada Piana, suddeste del centro abitato di Buccheri, una serie di frane colpì la scarpata valle della sede stradale, con danni importanti allo scarico delle acque piovane al collettore fognario. Le prime opere utili a circoscrivere i fenomeni di dissesto e a ridurne le conseguenze furono espletate dall'amministrazione comunale, che bloccò lo sversamento dei reflui urbani, intervenendo sul canale di smaltimento. Serviva però una soluzione organica, come quella in questione, al fine di mitigare il pericolo di altri movimenti del terreno, soprattutto se si considera il carattere strategico del tracciato, asse di collegamento e con i comuni di Buscemi e Siracusa. Il progetto prevede due tipologie di intervento, il primo sotto la sede stradale, con l'obiettivo di una sensibile riduzione del rischio idrogeologico, e il secondo su strada, strettamente connesso alla sicurezza dei veicoli e alla transitabilità del percorso. Tra le misure che verranno poste in essere la costruzione anche di un muro di sostegno in cemento armato, con fondazione superficiale lungo circa 13 metri, oltre alla riprofilatura del pendio e infrana, tramite la demolizione di massi instabili. Si procederà inoltre con soluzioni tecniche per il drenaggio e con la messa in opera di una rete corticale di protezione, costituita da una maglia romboidale di funi e rete metallica a maglia quadrata, sistemi di chiodatura e piastre di ripartizione zingate, con funzione di contenimento e di contrasto all'azione erosiva. Previsti infine lavori sul manto stradale, sull'ex strada 124 per circa 220 metri e su via Galliano per circa 50 metri, e anche la demolizione del muretto in blocchi calcarei sul ciglio della frana. Ed eccoci come ogni giorno ai numeri del Covid, vediamo un po' contagi da coronavirus più che dimezzati in Sicilia nelle ultime 24 ore, ma a fronte di un numero basso di tamponi processati. Infatti il tasso di positività è aumentato di due punti. Sono pochi i nuovi positivi al coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, ma nonostante ciò l'incidenza è aumentata di oltre due punti, ciò è dovuto all'esiguo numero di tamponi processati, appena 5.393. Sono infatti 542 i nuovi casi di Covid-19 registrati dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il giorno prima i positivi erano 1.281, ma a fronte di un numero più che doppio di test effettuati. Il tasso di positività infatti è quasi al 10,1% in aumento rispetto all'8% precedente. La Sicilia comunque rimane all'ottavo posto in Italia per numero di contagi giornalieri e gli attuali positivi nell'isola sono 18.978 con un aumento di appena 56 casi. A livello provinciale tutte le città sono abbondantemente sotto i 100 contagiati, ad eccezione di Palermo e Catania. Stavolta è aggrigento la provincia meno colpita dal virus. Questo comunque il report completo delle nove province della Sicilia. A Palermo 156 casi, a Catania 148. Poi Messina 48, Siracusa 31, Trapani 53, Ragusa 32, Caltanissetta 24, Agrigento 23, Enna 27. I nuovi guariti sono 485. Soltanto una è la vittima del Covid nelle ultime 24 ore. Su fronte ospedaliero aumentano i ricoverati, sono 300, 17 in più rispetto al giorno prima, mentre in terapia intensiva il dato è immutato, sempre con 17 posti letto occupati. Parliamo ancora dei 100 anni della ragioneria del centenario dell'Istituto Alessandro Rizza di Siracusa. Concluse le celebrazioni con l'iniziativa La Scuola Aperta a Tutti. Si sono conclusi i festeggiamenti per i 100 anni dell'Istituto Superiore Alessandro Rizza di Siracusa. È stata una partecipazione intanto al convegno 100 anni di scuola con la presenza del sindaco Francesco Italia, dell'arcivesco Francesco Lomanto, del provveditore agli studi Angela Fontana, oltre che dell'assessore alla cultura Fabio Granata e dei dirigenti delle scuole siracusane. Ampio interesse ha suscitato l'intervento della professoressa Renata Russo Drago, che ha presentato il libro sulla storia dell'Istituto Rizza e del già preside Marco Fatuzzo, che ha tratteggiato i punti salienti degli ultimi decenni dell'Istituto. Abbiamo voluto fortemente festeggiare questo anniversario perché man mano che abbiamo sistemato l'archivio e man mano che leggevamo il libro della professoressa Russo Drago ci accorgevamo che in fondo un pezzo di storia di Siracusa è il Rizza stesso. Quindi le scuole sono molto importanti per tenere stretta una comunità. Devo dire che il riscontro è stato molto positivo. I ragazzi, quelli diplomati da poco tempo, ci vengono a trovare, ci vengono a trovare persone che stanno fuori ma ci tengono a farsi la fotografia, a lasciarla. La scuola è fortemente radicata nel territorio. Il clou della festa però è stato raggiunto domenica in occasione dell'evento Scuola Aperta a docenti ieri e di oggi, agli ex alunni e a tutti gli amici del Rizza in un alternarsi di testimonianze, di ricordi e di musica. C'è stata tanta emozione il fatto di ritrovarsi con gli ex professori al rivedere le aule dove hanno frequentato il corso di studi da parte soprattutto degli studenti ma anche degli stessi docenti. Il dirigente scolastico Pasquale Aloscari ha concluso augurando buon anniversario al Rizza e brindando con i numerosi presenti. Siamo alla pagina sportiva interamente dedicata al calcio, al nuovo allenatore del Siracusa Calcio 1924, Gaspare Cacciola che si è presentato ieri in conferenza stampa e in passato ha già allenato la Berretti Azzurra. Vediamo il servizio. Per me è motivo di orgoglio allenare il Siracusa. Così si è espresso il nuovo allenatore Gaspare Cacciola durante la conferenza stampa di presentazione. Per Cacciola, di origini solarinesi, si tratta di un gradito ritorno dopo aver allenato la Berretti in passato. Per lui subito un impegno difficile domani in Coppa Italia contro la corazzata Nuovegia Virtus. Calcio d'inizio alle 15.30 allo stadio Nicola De Simone. Per quello che è stato il mio primo allenamento oggi qui, al di là che per me è giusto fare la premessa che per me è motivo d'orgoglio allenare il Siracusa perché sono del posto, sono per me un gradito ritorno perché ho allenato la Berretti. Per me c'è una grandissima responsabilità, quella di allenare la squadra e cercare di cambiare rotta e da adesso in avanti inizia sicuramente un altro percorso tecnico. Ci tengo in modo particolare a sottolineare l'amicizia che mi lega a Peppe Mascara. So che purtroppo è il mestiere di fare allenatore che purtroppo ci espone a certe situazioni, però mi sembra doveroso comunque ringraziarlo perché ho visto la squadra che è viva, la squadra che oggi come prima impressione ha fatto un ottimo allenamento e che non vede l'ora di ripresentarsi in campo per cercare di fare bene. Con lo sport si conclude questa edizione del TG, ma come sempre prima di lasciarci vediamo insieme che tempo fa. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì l'alta pressione continuerà a garantire condizioni di stabilità su tutta Italia, anzi tenderà ad innalzarsi verso l'Europa centrale, favorendo quindi una maggiore stabilità anche sulle regioni del nord, dove comunque sono attesi dei banchi di nebbia, delle nuvole basse che andranno poi diradandosi con l'andare del giorno. Questo campo anticicronico è comunque alimentato da calde correnti provenienti dal nord Africa che infatti porterà le temperature a raggiungere anche picchi di 30 gradi sulle isole maggiori, ma valori attorno ai 26-28 gradi sono attesi anche sui versanti tirrenici, soprattutto sul basso adriatico e temperature sopra la norma anche al nord, qui con clima comunque più umido, infatti questo lo notiamo dalla grafica che ci mostra un'Italia, le prese con il sole, ma un po' di nuvolosità di tipo basso insisterà sulle pianure del nord, si tratterà di foschie, qualche banco di nebbia e qui le temperature si manterranno un po' più contenute ma sempre sopra le medie del periodo. Per tutti i dettagli consultate l'app di Tribi Meteo. Con il meteo ci salutiamo, grazie per averci seguito, arrivederci e a risentirci alla prossima edizione. Grazie a tutti.